un accordo forte giusto per vedere il pico troppo alzo no no tu facciamo noi se fuori rompo il cazzo io parlo io vicino al microfono Paolo pronto vabbè ma io stai là o vicino eh questo possiamo alzarlo non puoi parlare lui vorrei parlare da qui si sente in cazzo è che lui sta bello alto è tutto alto abbassa un po' l'ampli no? che coraggio per adesso e poi vediamo che succede così è bassissimo eh noi invece abbiamo un orecchio e di gargobbe e di gargobbe tanto e via palla a porre tutus detus agionos eis gorson patro Grazie.